Anna! Ma che cosa stai facendo? Mamma, è solo per TikTok. Non preoccuparti. TikTok? Siri, mostrami TikTok. Ecco che cosa ho trovato su TikTok. Forse dovrei provarlo. Anna, tesoro, mi serve il tuo aiuto. E come funziona? Devo cliccare qualcosa. Aiuto. Tesoro, che bello. Grazie. Proverò questa tendenza. Ho sbagliato qualcosa. Proverò questo. Ma perché? Mamma, ma che hai che non va? Interessante. Anna, fammi volare. Sei pronta? Sì, vai. Ancora? Postato. Ma non è quello che... Anna! Oh, mio Dio, tesoro, stai bene? Oh, mio Dio, tesoro, stai bene? Anna, ce l'ho fatta! Mamma, hai visto la mia biastra per capelli? Oh, mio Dio! Ciao, Karen. E passa da me oggi. Ti faccio vedere una cosa fighissima. Oh, scusa, ma oggi non posso. Ok. Cosa? Ma che è successo? Ciao! Karen, guarda, adesso faccio TikTok. Cosa? TikTok? È una nuova ricetta per una torta? Sì, una torta. Guarda. Oh, per favore, aiuto, è il mio collo. Che dolore. Cosa c'è che non va? Non lo so, ma fa attenzione. Ok. Oh! Sta tranquilla. Era soltanto un TikTok. Uno scherzo. Oh, sei pazza. Va bene, va bene, scusami. Quale cocktail vuoi? I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green, or pink, or black, or white, I could be every color you like. Wow! Ma quello è TikTok! Devo provarlo! Te l'avevo detto che TikTok è fantastico? Ah, wow! Wow! Bravissima, Anna! Conosco questa tendenza! Oh, non, non, scusa, scusa! Ah! Mi sono svegliata! Mia cara bambina! La prossima volta! Oh! Mamma! Cosa stai facendo? Stai bene? Com'è divertente! Ciao! Ecco la star di TikTok! Sei proprio top! Cosa sta succedendo? Mamma! Mamma divertente 551! Anna, aiutami a fare un TikTok, per favore! No! Sei pronta? Joggy jog, 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 moving, like Sonic the Hedgehog, running, run, 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 running the rain, running the sun! Ciao Kitty, sono pronta, ci vediamo alle 15! Ci vediamo alle 15? Mi dispiace, mi sento male! A domani! Ok! Mamma! Kitty? Anna, non mi funziona il telefono, ma non ho fatto niente! Ti prego, aiutami! Cosa? La password sembra errata! Forse hai dimenticato di nuovo la password! Ma no! Eccola! Che strano! Ho fatto! Grazie, tesoro! Anna, tieni! È tempo di fare un TikTok! Mamma! Ma è pericoloso! La scienza è pericolosa! Mamma, ho paura! Sarà virale! Devo calmarmi! Sì, shopping adesso! Lo voglio! Ce l'ho! Lo voglio! Ed è mia! Lo voglio! Ed è mio! Lo voglio! Lo volevo! Lo voglio! Mamma! Mi piace moltissimo il tuo TikTok! Ti faccio una cioccolata! Posso avere un nuovo iPhone? Ma se ce l'hai già! Non fai mai niente per me! Davvero? Tirano fuori! No! Non credo! Mamme del mondo! È ora di provare TikTok! Fate la sfida della mamma! Wow! 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 Grazie a tutti.